Per la stampa nazionale il dato da sottolineare è che a Messina, città del ponte, è diventato sindaco l'uomo che ha sempre rappresentato quelli che il ponte non lo volevano. Per i messinesi la vittoria di Renato Accorinti è molto di più. Nel libro ideale della storia cittadina è una pagina importante, a colori, in un volume in bianco e nero, salta subito agli occhi. Entusiasmo ai sostenitori del progetto Cambiamo Messina dal Basso costringe alla riflessione chi negli ultimi decenni ha fatto politica, nessuno comunque può rimanere indifferente. Renato Accorinti probabilmente è stato premiato perché ha sempre semplicemente lottato per le cose nelle quali ha creduto e crede e non lo ha fatto pensando ad una candidatura maturata solo nell'ultimo anno. Da 40 anni i messinesi lo incontrano per strada, presente ovunque, convinto da sempre che le cose possano cambiare in meglio, non ha esitato a sposare battaglie che ad un politico tradizionale avrebbero solo potuto far perdere i voti, come quella a favore della comunità Rom di Messina e quella dell'elemosina da non vietare anche nel centro storico della città. Lo abbiamo visto attendere con pazienza e strategia ai politici per poter avere la possibilità di consegnare loro firme e scambiare qualche parola, conversazioni quasi rubate con una maestria incredibile, mentre le guardie del corpo di ministri e presidenti si arrendevano ad una tale pacifica energia. Adesso ad Accorinti spetta di diritto parlare con rappresentanti dello Stato e delle istituzioni a tutti i livelli perché il sindaco di Messina, fantapolitica appena due anni fa, in bocca al lupo al nuovo primo cittadino al quale certo non sfuggirà che da sindaco non potrà fidarsi solo al cuore e passata la festa sarà giudicato per i risultati.